Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballJersey. Io sono Stefano e oggi vi presento la prima maglia della Roma per la stagione 21-22 nella versione player, quella cioè dedicata ai calciatori. La maglia della Roma, la prima maglia della Roma come da tradizione è rossa con rifiniture gialle, da qui il nome dei giallorozzi. Nella versione player New Balance, stema del club e main sponsor sono termosaldati mentre il logo della New Balance è comunque ricamato e questo lo si vede anche dall'interno. Nella maglia sono visibili queste righine verticali molto molto belle, il collo è a W e nella versione New Balance della maglia si vede come il tessuto posteriore, quello della parte retro della maglia, sia veramente molto tranquillante. Sulle maniche vi è questa bordatura di color giallo che rifinisce la maglia. Sul retro vi è questa scritta la lupa, appunto un altro nome che viene dato alla alla squadra Roma. Sul retro la maglia è tutta rossa e via in basso lo sport. Il numero che avete stampato è di Pellegrini, uno dei giocatori secondo me più forti di questa Roma. Allora cosa ne pensate della maglia? Nella mia classifica questa prende tre stelle. È una bella maglia, un classico del calcio italiano, una maglia che sicuramente dovete avere se ti fate questi colori. Ora prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la vestibilità, se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia large della versione player, quella cioè dei calciatori che vi ricordo è un po' più aderente, un po' più attillata. Grazie!